Una storia di rinascita ci arriva da San Giusto Canavese. Oggi una villa sequestrata da un narcotrafficante è stata consegnata ad una cooperativa che gestirà persone disabili. Marzia De Giuli. La villa nel Canavese di Nicola Assisi, fra i più potenti narcotrafficanti al mondo, adesso è di tutti noi. Ci abiteranno persone disabili. Un bene confiscato all'Andrangheta è oggi consegnato dalla città metropolitana ad una cooperativa. Il progetto che abbiamo presentato è un progetto di riqualificazione della parte esterna per far sì che sia fruibile alla cittadinanza. All'interno pensiamo di ocitare un nucleo di persone con disabilità lieve. La storia della villa è travagliata. Era il covo del boss. Ci viveva con la famiglia e gestiva il suo traffico. Tonnellate di cocaina. In giardino nascondeva 4 milioni di euro in contanti. Condannato, divenne latitante. Intanto la villa prendeva fuoco. Incendio doloso. Nel 2019 l'arresto di Assisi in Brasile in un'operazione coi carabinieri. C'è voluto del tempo, ma finalmente ora la villa passa dal buio alla luce. Libera, l'associazione che combatte le mafie, non aveva mai smesso di chiederlo. Abbiamo il dovere di fare in modo che tutti questi patrimoni che sono frutto di violenza, di trappici e anche di morte, vengono restituiti alla collettività. Alla cerimonia di consegna c'erano tutte le istituzioni. Anche in considerazione del riutilizzo per i disabili è ancora più importante. È un segnale di fiducia verso lo Stato. Molte istituzioni hanno collaborato insieme per renderlo possibile. Come città metropolitana ci siamo fatti carico del bene. Con le risorse regionali, circa 100 mila euro l'abbiamo messo a posto. La legalità ha bisogno di simboli. Ci sono simboli umani come il preziosissimo Don Luigi Ciotte, che amiamo tutti e che sosteniamo, ma ci devono essere anche dei simboli fisici. In collegamento la ministra dell'Interno e il direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità, il magistrato Caselli, la sindaca di San Giusto. In Giardino il progetto con quel che sarà il messaggio che le mafie si possono sconfiggere.